Ragazzi benvenuti in questo nuovo video, io sono Vapor e oggi siamo qui intanto con il primo video dopo l'anniversario Quindi un bel like, commentino e tutto quanto e vediamo come fare la boss rush massima difficoltà Quindi difficoltà esperto, extreme, non so come si chiami in inglese, esperto in italiano Se non sapete di cosa sto parlando è una nuova modalità in cui devi affrontare i boss che mette, tre boss per l'esattezza che mette il gioco E' veramente molto difficile l'esperto, non è una cosa da fare con leggerezza perché appunto è abbastanza complicata Andiamo a vedere la build che useremo perché abbiamo preso 5 pokemon precisi per fare questa sfida che appunto come vi dico è abbastanza difficile E andiamo subito a vedere, intanto se non sapete come accedervi è qui semplicemente Tutti contro uno si chiama, premete e avete la sfida Intanto andiamo a vedere qua le build che abbiamo scelto Come primo pokemon abbiamo Slowbro con Skald e Amnesia Mi raccomando ragazzi seguite queste build e ce la farete sicuramente al 100% Poi si può fare anche in altri modi questa boss rush Ditemi se ce l'avete fatta voi a esperto però, occhio perché a principiante è un pochino più semplice A esperto è un pochino più complicato Quindi Slowbro come primo pokemon, questo è il set con la pozione che servirà a tankare i nostri boss Come secondo pokemon Espeon con Psyshock e Future Sight Quindi Divinazione Psyshock perché andremo a stunnare i boss Se non lo sapete i boss hanno una barra bianca sotto la vita che indica praticamente lo stun Quando verrà riempita i boss prenderanno più danni Questo è il set Muscle Band, Choice Specs e un Amplifier Ma anche gli altri occhiali insomma vanno bene Con Attacco X Il terzo pokemon è Garchomp con il set Terra che pure farà molti molti danni Muscle Band e doppio item da critico con Attacco X o Fluffy Venusaur che ci aiuterà dalla distanza con Sludge Bomb solo a raggio E la sua Muscle Band è molto importante su di lui perché il terzo attacco va a stunnare Quindi riempirà la barra del boss molto velocemente Attacco X anche per lui e doppio occhiale E l'ultimo è il nostro Greninja con le copie che serviranno molto per magari se Slowbro andrà a morire A tankare quei due hit del boss che comunque fanno molto comodo Shuriken che fanno molti danni E i soliti item insomma Muscle Band e doppio critico con Attacco X Andiamo a vedere noi siamo pronti Io ho riunito anche qui la squadra Andiamo quindi a giocare questa Tutti contro uno Andiamo un po' Siamo pronti Difficoltà esperto Iniziamo Ok quindi vi faccio vedere come Esattamente il ruolo un po' più difficile è quello di Slowbro vi dico perché È quello che dovrà appunto tankare senza morire tutti i colpi dei boss Andiamo a mettere anche vabbè le rune ma Non servono le rune ragazzi per questa modalità Io sto utilizzando queste ma sono quelle per attaccanti speciali in realtà mi tolgono PS È indifferente potete anche farla senza rune Ecco quindi ho gli oggetti sbagliati Andiamo a mettere la Muscle Band che è sempre utile Una Buddy Barrier ma sì ma potete usare gli oggetti che preferite in realtà Su Slowbro comunque tanka già di suo Non è troppo importante insomma L'importante è la pozione che Che sia lì Sempre presente Perché appunto è molto 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 utile Quindi andiamo a fare questa boss rush Vi ripeto È abbastanza complicata Fatemi sapere se voi ci siete riusciti Io nel frattempo vi dico che sono in live tutte le mattine e tutte le sere Dalle 10 e mezza la mattina e dalle 9 e mezza la sera Facciamo anche allenamento col team Facciamo le boss rush insieme Facciamo un sacco di robe Vediamo un po' Allora il boss più difficile è Arakwanid come primo boss Quindi noi abbiamo proprio quello Che fortuna Direi proprio una bella fortuna Arakwanid vediamo un po' se ce la facciamo A cavarcela Ovviamente non Cerchiamo di non metterci In mezzo alle ragnatele Qua ovviamente andremo giù probabilmente No Decide di non attaccarci più Togliamoci dalle ragnatele Cerchiamo di recuperare quanta più vita possibile E adesso Ok ci evolviamo Però andiamo giù Va bene va bene Arakwanid come già detto È abbastanza complicato Il boss più difficile tra quelli iniziali Purtroppo ci si è messo pure in una zona un po' così Ma va bene Recupereremo poi Recupereremo Andiamo Ok togliamo questi Che danno molto fastidio Cerchiamo di Tancare per i nostri alleati Attenzione alla rete vischiosa Ok è andato giù Articuno Occhio ad Articuno ragazzi Perché quando fa La mossa Bora Dobbiamo metterci Eccolo qua Vedete Lui sta guardando verso l'alto E noi ci dobbiamo mettere Nella direzione In cui sta guardando Proprio Quindi Una cosa abbastanza semplice Che però Non tutti sanno Quindi Occhio a Bora Vediamo di prendere anche La bacca qui Vediamo un po' Non riusciamo tanto a A far riempire la barra Ok quindi sta guardando Verso il basso E noi ci mettiamo Verso il basso Del pillar di ghiaccio Ora Non è Non è una cosa Difficilissima Dopo un po' Vi verrà in automatico Vediamo la pozione Io userei anche Una bella ulti qui Mi raccomando Le altre non utilizzate Le utilizzate solo Quelle di slobro Che comunque Si rifà abbastanza in fretta Quindi Le altre sono importanti Per fare invece Poi Regigigas Ecco Bora Sta guardando Verso l'alto Quindi noi ci mettiamo Verso l'alto Nel frattempo Possiamo continuare Ad attaccarlo E gringia È uscito Per sbaglio Va bene Abbiamo 2 minuti e 20 Per fare regigi Vediamo un po' Che attacchi Ci riserverà Speriamo Non ci faccia Troppe volte Il suo attacco Bora pure Che è abbastanza Complicato Da gestire Vediamo un po' Vediamo un po' Ok ok Siamo messi Abbastanza bene Con la barra Dello stun Adesso Quando fa Undashock Ovviamente Allontaniamoci I nostri alleati Altrimenti Diamo Loro Tanti Facciamo danno Praticamente Con l'undashock Basta che Ci allontaniamo Adesso Se l'è presa Particolarmente Con noi Vediamo se riusciamo A resistere Con la pozione Si Ok Eh niente Niente Non ce l'abbiamo Fatta Va bene Comunque Ci abbiamo Un minuto e trenta Adesso Probabilmente Moriranno Tutti i nostri alleati Perché Morto il tank E purtroppo Succede questo Ma non fa niente Adesso Torniamo Tutti insieme Abbiamo Quasi la ulti E Andiamo Io sono il tank Quindi posso Tranquillamente Andare Cerco di prendere Danno Solo io Quando possibile Ecco Adesso fa Un bel vento gelato Quindi Attenzione Perché ci dobbiamo Mettere Al riparo Per fortuna Ci siamo Quasi tutti Al riparo Bene 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 Ok Riusciamo Riusciamo a fare Una bella ulti Anche qui Una pozione Siamo quasi A Eh Purtroppo Ho preso Garchomp Vediamo che Abbiamo La bacca Andiamo verso La bacca No Però Perché stai Attaccando lui Arca Cazzozza Arca Cazzozza Però dai ce l'abbiamo quasi fatta Praticamente Ho 3% Ed eccolo qua Con 30 secondi di scarto Ce l'abbiamo fatta Una boss rush E C'avevamo anche la barra Dello stun Praticamente quasi piena Quindi Era Assicurato Vinto Con Questa Comp Qui Molto Molto Fattibile Perché facile No Assolutamente Soprattutto quando beccate Araconid Come primo boss E Magari Il secondo Più difficile Potrebbe essere Cioè Il secondo boss Più difficile Potrebbe essere Zapdos Che va molto Scappando Per Per la mappa Quindi È un po' Complicato Articuno Una volta capito Come funziona Bore È abbastanza Semplice E quindi Questo è Come fare La nuova modalità Difficoltà Esperto Extreme Insomma Come la volete chiamare Spero che Il video vi sia piaciuto Ci vediamo Al prossimo Mi raccomando Questi giorni Restate Sintonizzate Sul canale Twitch Youtube Quello che volete Perché usciranno Tantissimi Video Riguardo Nuovo aggiornamento Sistema degli emblemi Tutto Veramente tutto Ci vediamo Al prossimo Ciao 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 Ciao